Il centro-sinistra va all'attacco della giunta Mascia Pescara dopo i rilievi della Corte dei Conti sugli equilibri finanziari dell'ente. Le opposizioni spiegano che con le anticipazioni di cassa si è creata una tensione nella tenuta dei conti stessi che sta già ricadendo sui cittadini pescaresi. I consiglieri comunali di centro-sinistra ritengono la situazione delicata spiegando che in questo contesto non ci sono le condizioni per proseguire con l'approvazione della sessione di bilancio, auspicando i chiarimenti dell'amministrazione nei confronti della magistratura contabile. Abbiamo chiesto infatti di interrompere la sessione di bilancio noi come centro-sinistra ma anche gli altri gruppi di opposizione perché è arrivata una lettera della Corte dei Conti che denuncia uno scompenso grave, un debito grave, un comportamento anche costante del comune di Pescara che non rispetta il piano di rientro dal debito che è un piano pluriennare che è stato fatto diversi anni fa. Questa gravità fa sì che il comune si esponga a un debito non solo a un debito fuori bilancio ma anche a dei prestiti che hanno degli interessi altissimi tali da maturare 580 mila euro di interessi. quindi noi di fatto abbiamo delle casse, abbiamo un bilancio che deve essere approvato ma non sappiamo quanti soldi potranno essere effettivamente dedicati ai servizi che stiamo deliberando perché bisogna rispondere alla Corte dei Conti e non sappiamo oltretutto la cosa ancora più grave politicamente non solo tecnicamente che non sappiamo qual è la risposta del comune alla Corte dei Conti cioè qual è il programma di risanamento che il comune dovrà prestarsi a fare perché entro 30 giorni deve presentarlo alla Corte dei Conti? Voi avete anche denunciato il fatto che i cittadini stanno già pagando per quello che sta accadendo. Sì è questo anticipo di cassa di cui parlavo perché quando c'è un problema di liquidità i comuni possono chiedere l'anticipo di cassa è chiaro che questo matura degli interessi molto alti che poi sono i cittadini che pagano.